L'Olimpica Avellino di coach Domenico Amodeo domani scenderà sul parquet di Anguillara per affrontare i padroni di casa nella seconda gara di campionato di Serie B. Il match è in programma domani sera al Palla Faggiani con inizio alle ore 19 contro i biancazzurri di coach Faggiani che per uno strano scherzo del destino si chiama come l'impianto di gioco. I bianco-verdi non potranno contare su Antonio Guancia infortunato. L'ex pallavolista di Marigliano ha subito uno stiramento di basso grano all'adduttore destro. Un'assenza importante per gli avellinesi che non potranno contare così su uno dei loro elementi di maggiore valore. Michele De Prisco ci sarà anche se dovrà convivere con un problema all'avambraccio. Non riesce a stenderlo completamente. Anguillara all'esordio ha superato Sorrento 3-0, altra formazione che sulla carta dovrà lottare con Avellino per la salvezza. Chiaro che se i bianco-verdi dovessero offrire la stessa prova dell'esordio contro Gensano, la possibilità di fare un risultato utile non è poi così remota. Grazie. Grazie. Grazie.